Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Sulla A11 a causa di materiali dispersi, il traffico è rallentato in direzione Pisa tra Prato Ovest e Pistoia. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggimozzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo-Berardenga, chiuso in entrata e uscita allo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.